Francia e Germania dicono che hanno raggiunto l'accordo sul patto di stabilità, il governo italiano non è pervenuto, non sappiamo qual è la posizione del governo italiano, del resto qui in Parlamento il sottosegretario Freni ha detto che non sa che cosa deve dire, aspetta istruzioni, siamo veramente messi molto male.